Ben trovati nella seconda parte del sesto capitolo del corso di montaggio video con Adobe Premiere. Se vi siete persi gli altri capitoli e le altre lezioni trovate tutto sul mio canale YouTube, c'è una playlist e facilmente potete recuperare le lezioni precedenti e seguire quelle che verranno. A tal proposito, il mio consiglio è di iscrivervi al mio canale YouTube così che possiate sempre essere aggiornati di settimana in settimana. Allora, nella lezione precedente avevamo iniziato a vedere come funzionano i pannelli in Adobe Premiere. Avevamo visto come spostare i pannelli, come ingrandirli e rimpicciolirli, come vengono annidati i pannelli uno dentro all'altro per questioni di spazio e come chiudere un pannello cliccando con il tasto destro del mouse sopra i tre trattini e cliccando su chiudi pannello. Avevamo anche spostato un pannello, se vi ricordate bene, il pannello effetti si trovava qui dentro. Noi abbiamo cliccato col tasto sinistro del mouse, abbiamo spostato sopra, facendo accendere quest'area dello schermo di azzurro, di blu, meglio ancora, più blu, e rilasciando il mouse. Questo è il modo che Premiere ci dà per spostare i pannelli. Però, ipotizziamo che noi volessimo organizzare lo spazio di lavoro, perché non ve l'ho detto, ma tutto l'insieme dei pannelli prende il nome di spazio di lavoro. Quindi uno spazio di lavoro è un insieme di pannelli. Dicevo, ipotizziamo che noi volessimo organizzare i nostri pannelli in un'altra maniera. Per esempio, tra questo pannello, o meglio, tra questo insieme di pannelli, perché sono più pannelli, no? E il pannello progetto, ipotizziamo che noi qui in mezzo volessimo inserire un terzo pannello. Come fare? Allora, così come abbiamo cliccato sopra il nome di un pannello e lo abbiamo trascinato, facendo accendere il centro dell'area interessata, se noi ci spostassimo sul bordo, vedete che quest'area è divisa in bordi, vedete? Ok, se noi ci spostassimo sul bordo, un bordo laterale, ecco, l'area verrà divisa nuovamente e lascerà solo il pannello che stiamo spostando. Ve lo faccio vedere subito. Ho cliccato con il tasto sinistro del mouse sopra il nome del pannello. Ho trascinato il pannello. Ok. Faccio accendere il bordo, un bordo laterale, e lascio il mouse. Come potete vedere, è stata creata un'ulteriore area tra questo spazio e questo spazio, con all'interno solo il pannello effetti. Ipotizziamo che all'interno di quest'area volessimo inserire anche un altro pannello, tipo il pannello dei metadati. Ok? Li vedremo più avanti. Anche questi, non vi preoccupate. Clicchiamo sempre sul nome del pannello con il tasto sinistro del mouse, trasciniamo, facciamo accendere l'area del bordo verso cui vogliamo spostare questo pannello e come potete vedere abbiamo creato un'ulteriore suddivisione del nostro spazio. Io vi sconsiglio di fare questo, poi più avanti capirete perché. Piuttosto, volevo farvi vedere come inserire questo pannello dentro a questo pannello. È molto semplice. Cliccate sempre sul nome, si accende l'area centrale e i due pannelli vengono annidati l'uno dentro all'altro con la stessa modalità che abbiamo visto prima per il pannello effetti. Chiaramente questa cosa del trascinare verso un bordo, un pannello non vale solo per il bordo di destra, vale anche per il bordo inferiore. Guardate se io trascino, ad esempio, il pannello metadati sul bordo inferiore. Ecco, questo pannello, quest'area, meglio ancora, è stata ulteriormente ridivisa, suddivisa in altre due aree. Ok? Ripeto, vi sconsiglio di dividere troppo, altrimenti diventa tutto molto più complicato, però questa potrebbe essere una configurazione, no? Questo potete farlo con tutti i pannelli, con tutti i pannelli che avete in Premiere. Volete, non so, la cronologia, la volete inserire al lato? Ok? Cliccate, bordo destro acceso e abbiamo creato un nuovo spazio. Attenzione, potete anche sganciare un pannello. Ipotizziamo che voi avete due monitor, ok? Ipotizziamo che avete la possibilità di utilizzare un secondo monitor. Cliccate sul nome del pannello che volete sganciare, lo trascinate fuori, vedete, io ho trascinato fuori da Premiere, proprio, dall'area di lavoro di Premiere, e come potete vedere questo pannello vive di vita propria fuori da Premiere, ok? Quindi se avete un secondo monitor questo pannello potete tranquillamente andarla ad inserire nel secondo monitor, ok? Come voi preferite. E così via. Cioè, qui è solo la vostra fantasia il limite che può frenarvi. Sorge un problema. Ah, io ho giocato con i pannelli di Premiere, mi sono divertito a spostare, ho fatto un gran casino, però mi sono pentito. Eh, sì. Voglio tornare indietro. Come faccio? Ve lo dico, non funziona contro Z per questa cosa, eh? Quindi inutile che provate, non funziona. Per fortuna, gli sviluppatori Adobe ci vogliono bene e hanno immaginato che qualcuno, insomma, potesse pentirsi di quello che ha combinato e hanno inserito una funzione per ripristinare lo spazio di lavoro. Ripeto, lo spazio di lavoro è l'insieme di tutti i pannelli organizzati in una determinata maniera. Ah, diciamo, gli sviluppatori Premiere hanno ipotizzato una funzione per ripristinare tutti i pannelli alla loro configurazione originale per un determinato spazio di lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io, adesso, facciamo una cosa, ecco qua, così si vede, se io adesso vado su, ingrandisco così potete vedere bene anche voi, su finestra, ci si, aspetta che mi sposto, ok, su finestra, ci siete? Spazi di lavoro, ok? Ecco qua, così vedete bene tutti quanti. Spazi di lavoro, perché noi stiamo lavorando sostanzialmente sugli spazi di lavoro, ok? Vi troverete di fronte ad un menu. Ora, tra breve vi spiegherò cosa sono queste cose, ma scendiamo sotto e c'è un, una, una dicitura, una funzione, un comando, meglio ancora, che si chiama ripristina al layout salvato. vedete? Quindi ricapitoliamo, finestra, spazi di lavoro, ripristina al layout salvato. A cosa serve questa funzione? Bam! A ripristinare tutti i pannelli nella loro configurazione originale di un determinato spazio di lavoro. uno spazio di lavoro è un insieme di pannelli disposti in una determinata maniera, in un determinato ordine, ok? Perché insisto a ripetere cos'è uno spazio di lavoro? Perché esistono vari spazi di lavoro che i signori di Adobe hanno già configurato in Premiere in maniera tale che se noi volessimo lavorare con la color correction, per esempio, esiste già un insieme di pannelli organizzati in una determinata maniera per avere a portata di mano tutti gli strumenti per lavorare con la color correction. Guardate in alto questi nomi. Apprendimento, assemblaggio, montaggio, colore, effetti, audio, grafica, librerie, ok? Ipotizziamo che noi volessimo lavorare con la color correction, modificare i colori del nostro video. Se noi clicchiamo sul pannello, o meglio, sullo spazio di lavoro colore, vedete che vengono aperti alcuni pannelli che prima non esistevano, tipo colore lumetri, ok? E organizzati in una determinata maniera. Se io cliccassi sullo spazio di lavoro effetti, ecco, vi viene aperto lo spazio di lavoro effetti che altro non è che un insieme di pannelli già organizzati in maniera tale da essere efficienti quando lavoriamo con gli effetti. Stessa cosa per l'audio, stessa cosa per grafica, vedete che si apre addirittura il pannello della grafica essenziale, eccetera, eccetera. Noi ci trovavamo nel pannello montaggio, ok? Quindi, ricapitolando, ci sono tanti pannelli che noi possiamo personalizzare come vogliamo, ingrandire, rimpicciolire, chiudere, spostare, bla bla bla, e Adobe ha già preparato alcune configurazioni per noi, alcuni preset, per darci una mano ad avere gli strumenti che ci servono quando ci servono. Questo è il senso. Il pannello su cui abbiamo lavorato fino adesso è il pannello montaggio, però attenzione, se installate Premiere per la prima volta, come credo sia il caso di molti di voi, e forse ho sbagliato a non dirlo ad inizio inizio, però preferivo prima fare uno spiegone articolato su come funzionano i pannelli, dicevo, se vi trovate ad aprire Premiere 2019 per la prima volta, probabilmente vi trovate di default nello spazio di lavoro chiamato apprendimento, ok? molti di voi appena installato Premiere si troveranno di fronte a questa finestra. Ora sapete che sostanzialmente lo spazio di lavoro apprendimento è uno spazio di lavoro preconfigurato da Adobe probabilmente per permettere a chi è nuovo di Premiere di fare i tutorial che Adobe ha messo a disposizione in inglese sul proprio sito. Se siete bravi e non vi interessa apprendere tramite i tutorial di Premiere potete tranquillamente cliccare sull'area di lavoro o meglio sullo spazio di lavoro montaggio e cominciare da qui anche per i corsi che mi riguardano e che ci riguardano. Quindi questo è tutto quello che dovevo dirvi sugli spazi di lavoro e sui pannelli. Per adesso vi anticipo probabilmente faremo un tutorial a parte fuori dal corso che è possibile crearci i propri spazi di lavoro. Ipotizziamo che voi vi troviate comodi a lavorare con non so con i marcatori ok? Col pannello dei marcatori messo totalmente a sinistra ok? Notate come quando spostate un pannello che prenda tutto lo schermo si accenda una luce verde. Ecco ipotizziamo che voi vogliate salvare questa organizzazione di pannelli e non volete sovrascrivere una delle cose già fatte da Adobe sempre nel menu finestra è possibile trovare tra gli spazi di lavoro la possibilità di salvare un nuovo spazio di lavoro quindi salva come nuovo spazio di lavoro ok? Chiamiamolo ad esempio prova e come vedete questa nostra nuova configurazione è finita dentro agli spazi di lavoro preconfigurati questo per dirvi che potete crearvi la vostra configurazione personale e salvarla tranquillamente come ha fatto Adobe sulla barra in alto tutte queste configurazioni sono disponibili anche in finestra spazi di lavoro qui in alto vedete che la configurazione attiva viene evidenziata ci sono anche le scelte rapide da tastiera ora io non ho il Mac mi dispiace ma se utilizzate il Mac qui troverete le scorciatoie per accedere rapidamente ad uno spazio di lavoro piuttosto che ad un altro utilizzando la vostra tastiera io vi invito ad utilizzare la tastiera il più possibile vedete per esempio che tornando da prova a montaggio è rimasto con questa configurazione sbagliata con la configurazione che poi abbiamo salvato come prova allora è sufficiente per ripristinare il montaggio cliccare su finestra ripristina layout salvato e il montaggio torna come era prima credo sia tutto per quanto riguarda l'organizzazione delle finestre l'organizzazione dei pannelli l'organizzazione degli spazi degli spazi di lavoro in premier sicuramente avremo modo di approfondire meglio nelle prossime nelle prossime lezioni per il momento mi fermo qui troverete l'articolo di questa lezione sul mio sito internet www.fabioambrosi.it venite a trovarmi c'è anche l'indice con tutte le puntate che vi siete persi con l'indice anche di tutte le lezioni che dovremo ancora realizzare e soprattutto iscrivetevi al canale youtube così che a mano a mano che io vengo pubblicando le prossime lezioni voi possiate sempre restare aggiornati indicativamente pubblicherò una lezione a settimana queste prime lezioni le ho pubblicate un po' più rapidamente per dare un po' più di carne e un po' più di materiale a voi che volete imparare i premier tra un pochino cominciamo a rallentare e comincerò a pubblicare una lezione due lezioni massimo tre lezioni a settimana quindi iscrivetevi al mio canale youtube detto questo ciao a tutti grazie mille da Fabio Ambrosi alla prossima lezione grazie mille Grazie.